Guardate, i congressi locali ci sono appena stati e sono stati legittimi, se qualcuno si voleva candidare si poteva candidare, così non è stato, quindi ritengo che da un punto di vista di assetti non cambierà molto. Da un punto di vista politico c'è un dato importante in questa provincia per cui alcuni contenuti proposti alle emozioni, rinnovamento, un cambio radicale, la richiesta di ricambio di classe dirigente, a questo punto devono essere privilegiati rispetto ad altri perché è evidente il dato politico del voto di ieri, non tanto il dato personale quanto quello politico.